Ritorna anche quest'anno il Palio delle Quadre nella sua 44esima edizione. Dopo due anni di sofferenza si torna finalmente alla normalità? Sì, finalmente si torna a quello che è il Palio tradizionale, quindi con, oltre al programma che si svolgerà all'interno della piazza principale, Piazza Zanardelli, ci saranno le quattro quadre con anche alcune novità, non solo un ritorno alla tradizione, tra cui la nuova Quadra Malengo con una nuova sede, però finalmente potremo tornare tutti ad assaporare quello che è il vero spirito del Palio delle Quadre. Abbiamo accennato alcune novità, ritorna il salto con l'asta in piazza, quali altre novità aspettano i curiosi e gli appassionati? Sicuramente la grossa novità di quest'anno è anche per, come dire, riprenderci dopo i due anni di fermo, sarà il doppio concerto in piazza, quindi il lunedì e il martedì sera come la tradizione avremo il salto con l'asta in piazza, il mercoledì sera avremo per la nostra serata musicale Umberto Tozzi, che è un nome che sicuramente parla da sé, Il giovedì sera, seconda serata musicale, dove ospite di piazza Zanardelli sarà Sissi, la famosissima collega che ha partecipato all'ultima edizione di Amici. Il venerdì festeggeremo il quarantesimo anniversario dei musici e sbandieratori di Zeveto, mentre il sabato sera tornerà il tradizionale Palio con la corsa, come è stato lo scorso anno, con lo spettacolo a cura di Giorgio Locatelli e dei figuranti facendo parte delle quadre e, altra grossa novità, che vi invito tutti a scoprire, è la nuova quadra Marengo, appunto, che sarà sita in piazza del Granaio, nei pressi, quindi, della stazione di Chiari. Abbiamo accennato alle novità, agli eventi che ritornano seguendo la tradizione, un invito ai clarenzi e non solo a partecipare alla manifestazione. Un invito, l'invito è sicuramente quello di tornare a godere di quella che è la festa per l'Antonomasia, per la città di Chiari, tornare quindi a respirare l'area di festa, l'area di Palio, che tutti noi desideriamo da tempo e, soprattutto, ogni anno aspettiamo in trepidante attesa, ma, soprattutto, dopo due anni, direi che la voglia sarà sicuramente quella di tornare a divertirsi tutti insieme. Quindi, la città di Chiari, quadra Zeveto, Marengo, Cortezano e Villatico, sono pronte ad ospitarvi. I menù sono, come sempre, ricchissimi, le iniziative portate avanti da ciascuna quadra altrettanto, quindi non mi resta che aspettarvi tutti a Chiari e augurarvi un buon Palio delle Quadre.